Comincia domani l'avventura delle squadre che cercheranno di approdare comunque in Serie D dopo averla mancata nel corso della stagione regolare. L'incontro clou è naturalmente quello del comunale tra Vittorio e Modica, ma non è da meno quello tra due torre e nove G. Per quanto riguarda il Del Bibleo, quinto in stagione tra campionato e Coppa Italia vedrà un Vittorio avvantaggiato intanto dal fattore campo e poi dal fatto che gli potrà bastare anche il pareggio per andare avanti. Il Modica invece, bravo a strappare alla concorrenza il quinto posto, si presenta all'appuntamento dopo un finale di stagione molto travagliato a causa soprattutto delle dimissioni del presidente Piero Cundari e del tecnico Gallicchio. La squadra è stata quindi affidata alla coppia Polessi-Filicetti che si è allenata e continua ad allenarsi in autogestione. Poi c'è come detto due torri nove G, rispettivamente terza e quarta classificate. Alla finale del gironi accederanno le due squadre vincenti che si affronteranno poi sul campo della migliore classificata. Inoltre le squadre che vinceranno i play-off dei due gironi accederanno alla fase interregionale che mette in palio altri sette posti in Serie D. Domani infine allo stadio la società bianco-rossa, come è noto, si aspetta un pubblico numeroso e caloroso per provare a spingere la squadra in questo scorcio di stagione che deve ancora scrivere il finale.